Il suo volto angelico e innocente è entrato nel cuore di tutti ed ora i genitori di Anna Modenese e la ragazzina padovana, 14enne, morta dopo essere stata accolta da un infarto a scuola, hanno deciso di mandare attraverso una lettera aperta e inviata al comune di Padova un ringraziamento alle tantissime persone che si sono strette intorno alla famiglia nelle lunghissime ore di speranza che hanno accompagnato il ricovero e che purtroppo non sono servite a salvare la vita di Anna. Ho tanti problemi nella mia vita, ma le mie labbra non lo sanno e sorridono sempre. Una citazione di Charlie Chaplin, questo era lo spirito scrivono i genitori con cui Anna voleva affrontare la vita, sempre con il sorriso in volto in qualsiasi occasione dalla più semplice alla più difficile. Anna era speciale, raccontano ancora, perché il suo cuore puro e la sua intelligenza emotiva sapevano trasformare un gioco, un dialogo, una cena in compagnia in un momento magico, unico e irripetibile. Anna frequentava il primo anno del liceo di scienze umane Duca d'Aosta e anche il corso pre-accademico di flauto-traverso presso il Conservatorio Cesare Pollini di Padova e recentemente era entrata nell'orchestra I Pollicini. Amava tanto leggere e avere tempo per incontrare gli amici. In seguito all'arresto cardiaco avvenuto martedì scorso, appena arrivata a scuola, Anna è rimasta ricoverata nella terapia intensiva del centro Gallucci, fuori dalla quale c'era una presenza costante di amici, colleghi di lavoro dei genitori, conoscenti, che in mille modi hanno fatto sentire ai familiari la loro vicinanza, fino a quando il suo cuore ha definitivamente finito di battere, giovedì 20 febbraio. Persone a cui ora i familiari di Anna desiderano dire grazie pubblicamente per la loro vicinanza, assieme al personale medico del centro Gallucci, il corpo di polizia locale, il sindaco e il vescovo di Padova, il personale del pronto soccorso e della rianimazione. Il saluto e il comiato ad Anna è fissato per mercoledì 26 febbraio alle ore 10 presso il Sagrato del Tempio dell'Internato Ignoto a Padova. Grazie a tutti.